i migliori trigger di price action del 2022 sulla coppia forex euro dollaro arduino schenato da iar forex come al solito parleremo di price action e parleremo di quali sono stati a mio avviso i migliori trigger le migliori situazioni andando a prendere esclusivamente come trigger di price action le pin bar e i doppi massimi doppi minimi della price action quindi doppi massimi lower close e doppi minimi higher close che sono trigger che io ho spiegato nel mio primissimo ebook nel 2009 e poi dopo insomma è stato fatto sicuramente un sacco di formazione su questo negli anni allora quello che vedete qui eccolo qua è il grafico di euro dollaro che adesso ovviamente espando in maniera abbastanza ampia anzi potremmo anche fare così eccolo qua questo è il grafico le due linee che vedete azzurre blu eh una a sinistra eh eccola qui e una alla mia destra è praticamente eh l'inizio e la fine dell'anno le eh bandierine azzurre che vedete sono le bandierine dove io ho visto ehm diciamo dove ci potevano essere questi eh trigger di price action interessanti ripeto andando a prendere esclusivamente pin bar e doppi massimi eh lower close doppi minimi higher close perché questo eh voglio farvi questo video più che altro per mostrarvi come se noi andiamo ad avere pochi strumenti nel nostro trading pochi trigger nel nostro trading e facciamo price action non serve fare un milione di eseguiti che tra l'altro vanno a pagare un sacco di commissioni che poi vanno a decurtare eh la nostra il nostro profitto e quindi vanno a vanno a inficiare nella performance finale del trading ecco che in questo modo voglio mostrarvi come pochi trigger ma buoni già solo sull'euro dollaro prendendo ripeto esclusivamente pin bar doppi massimi doppi minimi insieme a altre quattro cinque coppie di valute per esempio o comunque altri sei sette mercati in totale io ci metto sempre quattro cinque coppie di valute un paio di indici oro petrolio e già questa può essere una watch list assolutamente micidiale per fare un buon trading su grafico daily quindi non si va sotto daily non si va a fare cose intraday mille trigger eccetera partiamo dall'inizio allora guardate qua eh siamo a esattamente a a a a a gennaio a febbraio se non ricordo male eccolo qua febbraio eh allora il l'anno era iniziato qui ovviamente io ripeto eh sono andato alla ricerca di quelle che erano le migliori situazioni e questa possiamo eh definirla una pin bar assolutamente interessante che arrivava eccola qui dopo un momento di ribasso quindi c'era stato questo falso massimo questa questa situazione falso massimo di quest'area che però non avrei tradato personalmente avrei atteso un ulteriore conferma quindi movimento di ribasso guardate il mercato ha tentato di rialzare ha consolidato e poi ha fatto questa giornata in cui eh lunedì 21 febbraio in cui il mercato euro dollaro è salito è andato a ritestare questi massimi per poi creare una bellissima pin bar che guardate ci avrebbe dato addirittura un paio di giorni per entrare quindi è vero che noi il giorno dopo potevamo entrare a breakout ma potremmo aver aspettato addirittura non non c'è mai per forza che bisogna entrare subito nel senso che io tendo a se ho un segnale buono il giorno dopo inserisco il mio ordine o se è già stato breakato inserisco un ordine a mercato entro solitamente faccio questo però guardate come c'era tutto il tempo addirittura nei due giorni successivi e probabilmente anche all'inizio del terzo per entrare short e poi vabbè è un movimento ampio parto dal presupposto che ogni trade io lo trado sempre col principio del paracadute paracadute più o meno viene sempre inserito dove vi faccio vedere viene inserito più o meno almeno sul doppio almeno della volatilità del trigger quindi per esempio se io entro vi faccio vedere entro qui short il mio stop paracadute quindi che poi andrà a muoversi in base all'andamento del mercato se il mercato va dalla mia parte io posso andare a gestire l'operazione andare a prendere profitto andare a incrementare per esempio ma cose che chi è un platinum per esempio quindi chi è iscritto al nostro servizio platinum vede tutti i giorni perché le faccio queste cose le faccio vedere però inizialmente lo stop paracadute va inserito qui no stop paracadute sp ok quindi evitando il fatto che magari mi faccia questo poi mi fa questo come spesso succede a parto dal presupposto scusate che non l'ho detto all'inizio che tutti i trigger che farò vedere sono esclusivamente con il trend daily ok con il trend di fondo quindi massimi minimi crescenti eccetera eccetera allora questo è il primo quindi primo segnale il abbiamo detto a febbra fine febbraio dopodiché andiamo avanti non ci sono altre situazioni per questi trigger se non questa questo è un doppio massimo lower close bellissimo questo è avvenuto il 31 di marzo di fine marzo su un falso massimo quindi classica trap tra l'altro trap bar e il giorno dopo doppio massimo lower close che anche qui alla rottura ha generato un movimento almeno fino ai minimi in realtà anche di più si poteva andare a prendere anche qui sempre solita situazione stop paracadute due volte la volatilità poi ancora questa che è anche un ftv pin bar falso massimo classicissima rottura movimento di una due tre quattro cinque giornate consecutive al ribasso poi ovviamente si va a prendere profitto anche molto prima insomma appunto nella zona questa qui poi ancora non ci sono altre situazioni doppio massimo doppio minimo pin bar non ce ne sono noi troviamo un'altra qui eccola qua sempre nel trend di fondo il mercato aveva formato dei massimi arrotondati come piace chiamarli a me quindi un massimo un massimo oltre e poi ancora ritest poi ancora guardate movimento di zigzag e poi questa falsa rottura doppio massimo lower close che alla sua rottura ha generato un movimento di due in realtà anche qualcosa in più per arrivare su questo livello qui che è il livello praticamente di minimo precedente altro bellissimo trade anche questo poi andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti non ci sono altre cose c'erano delle degli altri trigger ma non c'è eccolo qui questo è un altro trigger doppio massimo lower close che sfalsa i massimi precedenti in una situazione di tendenza anche questa quindi ho detto all'inizio che vado solamente a tradare i trade in tendenza quindi trigger in tendenza quindi anche qui potevo il giorno dopo andare a vendere qui e però dopo qualche giorno vedete il mercato è fuoriuscito al rialzo e se vado ad usare uno stop classico quindi leggermente sopra i massimi sarei stato preso ci sta qualche trade va stop ma se io avessi usato lo stop paracadute eccolo qui quindi il doppio della volatilità come vi ho detto prima quindi fatto 100 eccolo qui vado a impostare il mio stop paracadute qua sopra in realtà non sarei mai uscito perché dopo qualche giorno il mercato ha fatto queste due inside per poi rompere addirittura generare un mega movimento è ovvio che qui poi si potrebbe anche fare che cosa io probabilmente avrei fatto che cosa movimento di questo tipo il mercato sale poi rientra il fatto che rientri io probabilmente qui avrei impostato il mio stop paracadute in uno stop classico qui sopra addirittura avrei potuto anche provare un incremento qui l'incremento qui non ci sarebbe mai stato lo stop però quindi una una chiusura in perdita qui ci sarebbe stato molto probabilmente benissimo andiamo avanti ancora vediamo un po ho un'altra guardate qua una pin bar abbiamo detto che prendiamo solo le pin bar e i doppi massimi doppi minimi del dell'euro dollaro del 2022 qua addirittura ha generato un movimento enorme guardate qua anche qui una cosa simile potrebbe essere successa vedete questo movimento doppio della volatilità anche qui se guardate non sarei mai stato preso quindi io sarei entrato più o meno qui o leggermente migliore sono solitamente entro su questa zona stop paracadute qui sopra non sarei mai stato preso mercato addirittura che qui ci fa qualche tempo dopo addirittura un doppio massimo lower close in linea con la dinamica short dopo una lieve ritracciamento di tre di quattro candele di quattro giornate rottura del minimo giù quindi addirittura qui se non si fossi usciti manualmente in perdita con una perdita ovviamente minore qui si poteva addirittura fare un incremento oppure nel caso in cui si dovesse essere usciti perché magari il mercato poi scende ritorna insomma si esce con una perdita meno sono entrato qua magari esco su una perdita minore qui qui comunque entro e qui faccio un movimento bello interessante però l'importante è che capiate quanto il paracadute può essere molto molto forte interessante se si lavora in trend ovviamente poi ancora mercato cambia guardate come cambia minimi e massimi che iniziano a crescere quindi qui non si va più short ma si inizia a cercare dei long ecco il primo primo doppio minimo higher close che si viene a verificare proprio il 10 di novembre anche qui si poteva ovviamente inserire uno stop paracadute movimento di tendenza che poi arriva e guardate un altro doppio minimo higher close che si viene a verificare qualche tempo dopo il 30 di novembre quindi il 10 novembre il 30 di novembre anche qui ha generato un movimento incredibile basta questo è un po quindi se noi andiamo a prendere adesso ritorniamo un po indietro riprendiamo un po tutto l'anno 2022 quindi l'ultimo anno che eccolo qua facciamo così così si vede bene eccolo qui eccoci qua bene eccolo qui vedete come abbiamo avuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trigger di cui i due potevano aver generato un costo anche se usando un paracadute tenendolo senza cambiare la nostra idea anche se noi cerchiamo di mantenere i costi molto bassi quindi in quel caso molto probabilmente si andava ad avere un costo minore facciamo il caso che io su ogni trade rischi 100 è ovvio che lì sul paracadute invece di 100 magari avrei perso 50 30 60 non 100 e in questi altri io credo che almeno un 100 insomma anche visto in certi casi di trend che si sono verificati si poteva andare a fare ecco questo per farvi capire lo farò anche per altri mercati guarderemo il 2022 vedremo un po come come si è quale qual è stato il risvolto diciamo operativo operando esclusivamente in modo semplice di price action e in quindi in con dei pochi trigger e un solo time frame diciamo il daily che è il time frame di entrata e come in maniera assolutamente con una filosofia assolutamente da less is more no il meno è più si possano raggiungere risultati con una tranquillità e un tipo di trading assolutamente efficace ai fini risultato che genera poche commissioni quindi che ci va a influenzare poco il valore commissionale sul nostro trading ma che viene generata una ottima performance tra l'altro con un trading ripeto molto tranquillo rilassato nove trade su una coppia di valute in un anno fate conto che ripeto abbiamo non so una decina di mercati che guardiamo e facciamo il caso che mediamente non ne abbiamo nove ma sette di trade di questo tipo no su ogni mediamente su ogni mercato e sono già 70 opportunità in dieci mesi una novantina no 85 90 facciamo anche 80 in un anno ecco questo è rispondetevi voi quindi vedete com'è importante essere molto molto ligi al nostro piano alle nostre al nostro metodo quindi il price action trader guarda esclusivamente il time frame alto opera esclusivamente in base ai trigger opera il più del tempo in tendenza di breve meglio se ovviamente la tendenza di fondo ma il daily già ci dice spesso i cambi come si è visto sul sul daily qui no quando già al 30 settembre c'era stato questo doppio minimo io però non ho tradato perché era contro la tendenza l'avete visto anche questo in realtà ce n'erano varie anche questo quando è iniziato a formarsi una tendenza sana quindi minimi e massimi crescenti a quel punto si è potuto vedere appunto un possibile movimento long e quindi cercare di andare a trovare esclusivamente i messaggi del mercato in tendenza quindi questo vuole essere ripeto un come dire un consiglio di andare a guardare queste cose andateci a vedere perché vi concentrate spesso sulle notizie sui dati e se parla questo se parla quello è l'indicatore il volume e non c'è il book e le onde questo e quell'altro quando se ci focalizziamo su pochi come dire su poche caratteristiche chiare noi con pochi mercati riusciamo a fare delle ottime operazioni su delle ottime opportunità ovviamente qualche volta le operazioni non fanno quello che noi vogliamo ma in quel caso insomma si riesce a gestire bene il costo ok bene io spero che vi sia piaciuto anche questo video ne farò probabilmente altri di questo di questo tipo andando a vedere anche altri mercati che cosa hanno fatto i mercati ovviamente principali quelli che preferisco sono fatto quest'anno sul 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 mercato e cioè sul sui grafici scusate e da lì ovviamente magari mi date anche un po voi le vostre opinioni le vostre idee anzi mi fa molto piacere se sotto i video commentate fate mi date anche qualche spunto perché così io posso andare a fare dei video che possono andare anche a nella direzione di spiegarvi delle cose se avete magari dei dubbi o delle situazioni che volete magari che io possa spiegare attraverso questi video gratuiti su youtube io a questo punto vi ringrazio vi saluto ovviamente vi chiedo se potete lasciare un mi piace se il video vi è dato vi è stato di supporto se vi piace questo canale non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella così che potete ricevere tutte le notifiche di quando siamo live di quando esce un video io vi ringrazio vi saluto e vi auguro un buon trevino simpo ciao